bentornati guardate qua questo è un pannello fotovoltaico che ho acquistato su amazon guardate il prezzo 185 euro 95 è ancora in preparazione la spedizione questo aveva 200 watt 12 volt ecco il prezzo lì ok perfetto il prezzo è giusto rispetto ai quei alti pannelli che ho acquistato clicchiamo qui e vediamo se è disponibile lo stesso pannello ancora vediamo si apre le sole immagine ma si sembra disponibile 185 euro le 95 a invece di 200 watt 100 watt disponibilità solo 1 però come mai il prezzo è uguale adesso guardiamo anche le misure fate sto controllando la misura anche uguale uguale a quello che ho preso io 670 mm per 1480 mm uguale uguale a quello che ho preso io che era 200 watt questo a 100 watt però il prezzo è lo stesso metà potenza uguale uguale al modello perk c'è un po qualcosa che è scritto un po di diverso però è la stesso infatti questo è quello che ho acquistato vedete confrontate cambia i watt però tutto il resto è uguale ideale per camper insomma lì c'è scritto per il giardino barca però è la marca e tutto il resto è uguale e 185 euro 95 uguale allora adesso vediamo un'altra cosa clicchiamo sui miei ordini e qua appunto è ancora in preparazione della spedizione si è ordinata parecchi giorni fa comunque ancora è 200 watt il prezzo come abbiamo visto 135 95 va bene e andiamo cliccare il dettaglio dell'ordine vediamo ecco qua si è aperto viene fuori sempre la stessa cosa 200 watt e l'importante è quello questo il prezzo 125 95 ecco spedizione inclusa tutto gratis pratica è spedizione 0 135 95 allora ecco ne no non si scappa quello del prezzo che ho pagato clicchiamo qui e dovrebbe aprirsi o dire non è disponibile invece quello è scritto 100 da 5 95 uguale è sempre 100 watt allora è solo stanno vendendo a 100 watt e cosa vuol dire un errore un imbroglio stanno approfittando ecco volevo fare mostrare questa roba qua ma attenzione guardate qua l'orario è il 9 e 10 di mattina di questo giorno il 21 ottobre alle 10 e 23 e 20 sempre stesso giorno guardate qua non disponibile lo stesso articolo è già stato venduto sparito infatti non è più disponibile l'hanno venduto e qualcuno è caduto in trappola ha pagato il prezzo di un valore di 200 watt e l'ha pagato per 100 watt iscrivetevi e alla prossima ci vediamo ancora ciao 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 ciao